Nis da Silvera fu una grande psichiatra brasiliana, nacque il 15 febbraio del 1905 e morì il 30 ottobre 1999, a 94 anni, oggi è il 115esimo anniversario della sua nascita. Da Silvera nacque a Macerio, nello stato della Lagoas, nel nord-est del Brasile. Nel 1926 si laureò in medicina all'Università di Baia, l'unica donna fra 157 uomini del suo corso, e dedicò la sua vita alla psicologia e alla psichiatria. Si oppose sempre con fermezza alle forme di terapia aggressive in uso negli ospedali psichiatrici del tempo, come l'elettroshock, lo shock insulinico e la lobotomia. Dopo il trasferimento a Rio de Janeiro, nel 1933 cominciò a lavorare nel Servico de Assistencia a Psicopatas e Profilaxia Mental, servizio di assistenza e medicina preventiva per le patologie psichiatriche, nell'ospedale della Praia Vermela. In questo periodo militò nel Partito Comunista, venne accusata da un'infermiera di possedere dei libri su Karl Marx, e in seguito incarcerata.A metà degli anni trenta lavorò in semi-clandestinita, approfondendo letture di Spinosa, che portarono nel 1955 alla pubblicazione del libro Cartas a Spinosa. Tra il 1936 e il 1944 fu bandita per ragioni politiche dagli impieghi pubblici. Fu reintegrata nel 1944 e cominciò a lavorare al Centro Psiquiatrico National Pedro II di Rio de Janeiro.Nel 1952 fondò a Rio de Janeiro il Museo de la Imagons do Inconsciente, un centro di studio e di ricerca per la conservazione delle opere prodotte dai pazienti ospitati nell'istituto, che considerava documenti utili ad aprire nuove possibilità per una migliore comprensione delle patologie psichiatriche. Attraverso il suo lavoro, inoltre, Nisda Silvera introdusse in Brasile la Psicologia Jungiana.